La squadra è una squadra composita, noi vorremmo, quando dico noi, vorremmo dire tutti noi, tutta la squadra, proprio perché tra le altre cose io mi sento convintamente primus inter pares, io non sono il presidente imperatore dell'associazione, voglio essere una persona che lavora insieme agli altri, proprio perché credo fortemente nel lavoro di squadra e del valore aggiunto che può dare il lavoro di squadra, per cui abbiamo costituito insieme agli amici un sistema plurale, un'associazione in cui si vede chi la conduce e che non ha un uomo solo al comando, nello specifico io, ma un gruppo dirigente che è connotato soprattutto per le competenze. Confimpresse Fosinone e anche Industria. Nel senso che l'impresa ha varie sfaccettature e quindi l'industria, direi, non è la principale ovviamente, ma ha un ruolo importante, fondamentale nel periodo di un paese, perché è quella forza trenante che poi porta dietro commercio, artigianato e quant'altro. Quindi insomma, un ruolo di grande responsabilità e un ruolo che si deve far ascoltare dal mondo delle istituzioni che non hanno, diciamo così, una grande opinione di questo settore. Forse per ignoranza, forse per non curanza, ma insomma. Ecco, quali sono, se ci sono, le principali criticità di questo settore? Principalmente che le istituzioni devono comprendere a livello culturale, combattere a livello culturale l'idea che l'industria, le imprese in generale siano un bancomat per il paese. L'industria e le imprese in generale sono il PIL di questo paese, quindi vanno incentivate con grande attenzione, vanno sostenute con grande attenzione, perché senza impresa non c'è né PIL né occupazione. Con l'impresa Italia e anche turismo? Soprattutto turismo in un territorio dove il turismo è prioritario, dove ci sono delle criticità e Confimpresa Italia ha deciso di agire in maniera pratica, cercando di risolvere i problemi in maniera immediata, dando possibilità agli albergatori e a coloro che operano nel turismo di accedere a microcredito agevolato per risolvere i principali problemi che ci sono nelle attività. E questo è quello che noi andremo a fare subito con molti fatti e poche parole. Quali sono i principali servizi che offre Confimpresa Italia? Confimpresa Italia ovviamente ha una ricaduta a livello territoriale, quindi si partirà dal livello nazionale, regionale, provinciale. Ovviamente ognuno di noi avrà delle competenze, una pluralità ovviamente di settori specializzati in determinate direzioni. Noi partiremo ovviamente con tutti i servizi che corrispondono e collaborano e che siano intorno al mondo delle imprese, partendo da quelli che sono i concetti dell'internazionalizzazione delle imprese. Adesso noi ci batteremo soprattutto nell'internazionalizzare i nostri prodotti negli Stati Uniti d'America perché proprio in quest'ultimo periodo con la ricaduta della Cina nei confronti degli Stati Uniti che ha portato a un blocco dell'ingresso dei prodotti all'interno dei Stati Uniti si è registrato un incremento della richiesta dei prodotti italiani all'interno del mercato statunitense. Quindi ci batteremo, focalizzeremo le nostre attenzioni in quelle che sono proprio questi passaggi fondamentali nei vari settori ma soprattutto quello che competerà nella nostra individualizzazione sarà proprio evidenziare quelli che sono i settori di riferimento più partiremo dall'educazione, dalla formazione e agli apprendimenti. L'impresa ovviamente cercheremo di andare a detassare e a creare delle nuove fiscalità per le imprese con i nuovi sistemi di politica attiva e lavoro. Quindi partiremo non solo da quelle che sono state le politiche regionali che hanno dotato in questo periodo con garanzia giovane che purtroppo sia per quanto riguarda la formazione che per l'inserimento lavorativo non hanno avuto riscontro formale ma poi partiremo anche con quello che è il benessere di un paese parte sostanzialmente dalla fiducia degli investitori e dei consumatori nei confronti di quelli che sono gli aspetti istituzionali, politici e sociali. Quindi se manca la fiducia manca il benessere nei confronti del paese. Quindi noi punteremo proprio sostanzialmente a questi elementi. Pluralità, competenza e internazionalizzazione delle imprese. Confimpresa Italia anche a Cassino. Sì, abbiamo deciso di confluire e quindi di unire le forze con un'associazione a livello nazionale perché sentivamo la necessità di avere una rappresentatività anche a livello globale. Su Cassino siamo presenti già da molti anni e nel settore io principalmente mi occupo quindi di imprenditoria femminile. Ci occupiamo quindi di portare avanti i progetti, di sostenerli anche attraverso quindi unione con associazioni che possano garantirci un sostegno anche in ambito governativo.